al museo del perugia calcio l'allenatore massimo oddo si presenta alla città e dai tifosi ad introdurre il nuovo allenatore del perugia e il direttore roberto goretti che porge ufficialmente gli auguri al neotecnico che si lega a perugia con un contratto biennale sono due anni che subentro in corsa qui con un piano di concerto dall'inizio con un direttore con il quale siamo in sintonia dai tempi di napoli la certezza che abbiamo ora è che c'è un gruppo che partirà in ritiro ed è lì che valuteremo insieme e di concerto come dicevo con la società i giocatori con maggiore intelligenza calcistica e tecnica che meglio si abbinano alle mie caratteristiche di gioco non basta però dichiarare di voler giocare bene con un'idea organizzata bisogna che ognuno ci metta il suo e si rimi con armonia quanto alla fortuna invece credo che occorra andare a cercarsela queste le prime parole di neo mister massimiliano oddo